Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo l'esercizio numero 49 del metodo per abbellimenti terfine ed agilità. Ecco qua, il 49 è simile al 48, è il contrario, invece di fare questo, 5 4 3 2, spesso trovate anche questo a volte, ecco qua, tutto in diretta, e così. Facendolo molto lento, questa è una tipica di acciaccatura però con 5 4 3 sul 2, facendolo molto lento, diciamo a 69, potete fare questo, quindi 1 2, 1 2, 1 2, l'apertura è uguale, 1 2, 1 2, 1 2, quindi 5 4 3 2, molto veloce, un'acciaccatura tri, la, quindi 1 2, 1 2, parola, 1 2, un'apertura, 1 2, 1 2, quasi insieme, parola, chiaro? Bene, l'esercizio ve lo mostro in video, ecco qui, benissimo, ok, ripeteteli tantissimo, e c'è poco da dire, insomma ci farò un bel po' di tempo, fate il magari a blocchi, prima vi dedicate, non lo so, alle terzine e fate una full immersion sulle terzine, poi l'acciaccatura, l'acciaccatura doppia, quella tripla, ha ribattuto proprio su questo, gli esercizi a scorrimento, non fatele a tutti di seguito, altrimenti rischiate di non capire nulla, quindi di fare solo confusione, chiaro? Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!